Sì, due interventi, Tonino lo vedo, forse adesso può anche lui dirci qualcosa. Sì, ti sentiamo, aspetta Tonino, finisco io. Quindi magari Tonino chiude il giro di presentazioni, però io vorrei sentire, diciamo, due persone esterne al percorso che più abbiamo fatto e che stanno lavorando con noi e che proprio perché lavorano sul terreno della comunicazione forse possono incominciare a darci un punto di vista di quello che stanno osservando. Quindi io proporrei di sentire, diciamo, il punto di vista di Fabio Sebastiani, quello di Marco Garofolo, che per capirci non solo è un operatore della comunicazione, ma che noi abbiamo, qui stiamo chiedendo di darci una mano a mettere in piedi gli strumenti dalla piattaforma digitale su cui operare. Ora guardate, qui non c'è solo un aspetto tecnico, è chiaro che tu comunichi quello che hai. Lui ci sta osservando da qualche tempo, sta ragionando e sono curioso di capire cosa Fabio e Marco sono in condizione di dirci rispetto a questo sforzo del movimento contadino di mettersi in campo, come la vedono. Però vorrei sentire anche due esperienze interne nostre e quindi vorrei sentire Katia, che negli ultimi 10-12 anni è stato un pezzo fondamentale del percorso che abbiamo fatto e vorrei risentire per un ragionamento un po' più compiuto Tano Malannino, che è stato finora il presidente di Alta Agricoltura, che da domani praticamente diventerà, invece per accordo, come abbiamo già discusso, il presidente del foro dei contadini e degli agricoltori e che ha condotto un'esperienza in questi anni giocata fra le mobilitazioni, i progetti, il tentativo continuo, come ricordava anche Maurizio prima, di costruire autonomia, rappresentanza, organizzazione. Quindi vorrei sentirvi rispetto agli obiettivi che ci siamo dati questa settimana e al percorso incominciare a un po' più entrare nel merito e sentire i punti di vista, questi quattro punti di vista. Poi mi fermerei qui perché poi dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare a partire dal fatto che domani mattina, domani ci aspetta tutta la giornata dedicata agli agricoltori e quindi alla costruzione della rete degli agricoltori, di progetti, della rappresentanza, di questa roba qua. Quindi se sei d'accordo Katia, io restituirei intanto per una brevissima presentazione la parola a Tonino Meridoro. Mi dispiace che Teresa Gaudioso poi proveremo a, che continua a essere presente, a vedere come può entrare in discussione nei prossimi giorni, però intanto darei subito la parola a Tonino e poi chiederei appunto questi quattro interventi, pregando di non stare nei dieci minuti, insomma in modo che, sette, otto minuti anche meno, in modo che proviamo a chiudere questo primo giro di presentazione del lavoro di questa settimana. Tonino. Tonino, a te. Ok, adesso sì. Ah sì, ho più di un microfono e quindi il problema è questo. Sono Tonino Meridoro, coordinatore legale di Soccorso Contadino, che è un'associazione che si occupa di dare tutela legale e tecnica al movimento degli agricoltori. collaboriamo con Gianni, perché è il sindacato sui persone, in questo caso qui, da più di dieci anni e molte sono state le verpenze che abbiamo curato e abbiamo portato in porto. Da un po' di tempo curiamo anche una rubrica su Iafu e per dare una risposta immediata alle problematiche che si verificano in campo agricolo e siamo qui a fornire il nostro apporto tecnico, ma non solo perché il Soccorso Contadino si occupa anche prevalentemente di mutualismo. Quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni per un contributo più fattivo. Ok, Fabio quindi. Fabio? Katia, inizia tu. Allora. Così ti presenti anche perché chi non ti conosce sa chi sei e poi incominci a dirci la tua su questo percorso, perché sono dieci anni vissuti pericolosamente nel tentativo di continuare a costruire l'organizzazione. Allora, io sono Katia Madio, sono dieci anni, l'ha detto Gianni, che ho incrociato il movimento di altra agricoltura e l'ho fatto incrociando un comitato territoriale, perché Gianni ci ha dato una grossa navano in Basilicata e Puglia a gestire un'alluvione. e quindi con molti di voi questo percorso è iniziato dieci anni fa. Poi, quindi sono tante cose, nel senso che sono diventata tante cose. All'inizio ho osservato moltissimo, poi pian piano ho compreso. Quindi partivo da essere un consumatore, non usiamo questa parola, ma cittadino. E ovviamente il cittadino non sa tante cose, o meglio, sa una realtà parziale. Quindi ho incontrato poi gli agricoltori, sono diventata adepto stampa di altra agricoltura. L'obiettivo è quello di essere la presidente dell'ASA, cioè l'Associazione della Sovranità Alimentare, di cui discuteremo giovedì e venerdì, quindi tra strumenti, perché l'ASA è un cappello che trasversalmente attraverserà i movimenti e il sindacato e offrirà gli strumenti. La comunicazione è una di queste, poi ci sarà la formazione, la ricerca e quindi, insomma, l'editoria, una serie di cose. Inizialmente io avevo dato, diciamo che l'unica cosa è che c'è tanta gente e bella gente. Durante la radio IAFUE ho visto che questa rete si sta allargando sempre più perché ci sono persone che parlano il nostro linguaggio e la nostra lingua. Quindi l'obiettivo è quello di intersecare un po' tutti quanti e quindi parlare, cioè a più voci e dire cose comuni. E niente, quindi un obiettivo molto ambizioso perché, proprio perché siamo tanti e siamo diversi, sarà una sfida questa di poterci agganciare e poter stare insieme. E questo è già un obiettivo importante. E poi, niente, io spero di, con Fabio, con Marco e con Stefano, curerò la segreteria di IAFUE e quindi darò una mano per realizzare i palinsesti, per un po' agganciare, sarà il nostro megafono IAFUE e poi ne parteremo giovedì e venerdì. Quindi questa sono io. Il mio punto di vista è un movimento che è un movimento altro, come dice Altra Agricoltura. È diverso e anche spigoloso per certi aspetti, che ha delle sedie bollenti, però dobbiamo imparare a gestirlo e ad essere sempre più protagonisti e soprattutto sempre più convinti di quello che stiamo facendo. Ecco, la chiudo qua. Bene, allora se posso intervenire, Katia? Sì, sì, certo, certo, scusami. No, 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 niente, perché ho avuto un problema prima. E vabbè, io saluto tutti e farò un intervento brevissimo per richiamare l'attenzione su alcuni punti sostanziali che poi comunque verranno sviluppati venerdì nel corso del seminario. Però richiamandomi direttamente a quello che ha detto Gianni e che ha sottolineato Katia, io credo che questa complessità a cui oggi abbiamo un po' assistito di punti di vista che però cercano dei punti in comune è un fatto politico e sociale davvero straordinario. Io ho scritto di sindacato per 25 anni, continuo ogni tanto, non c'è in un'altra organizzazione sindacale un tale meccanismo così vivo, reale, radicato che possa poi dare luogo a un dibattito vero. Ormai tutto è imbozzolato nelle caste politiche, nelle organizzazioni che chiaramente curano i loro interessi, l'auto-legittimazione delle organizzazioni sindacali e che quindi sono destinate a creare problemi e non a risolverli. Detto questo, io credo che appunto questa complessità va rappresentata, va raccontata perché probabilmente è proprio questa complessità che, e questa bellezza, lasciatemelo dire, Katia prima l'ha accennato un po', che la società rimuove continuamente, perché non volendo affrontare i problemi cerca una via, diciamo così, tecnocratica, cioè al di sopra, quindi dei livelli di democrazia e di confronto. Va messo un punto chiaro per quanto riguarda la comunicazione che si ricollega al concetto di sovranità alimentare, così come l'ha esposta Gianni, la radio associata allo strumentario, alla strumentazione dei social, sposa in pieno l'ambizione quindi dell'alleanza per la sovranità alimentare, aprirsi verso l'esterno e quindi condurre una precisa battaglia culturale e fare in modo che tutti i meccanismi sindacali funzionino al meglio, sostenerla nello sforzo non indifferente di uno scontro politico che si presenta né facile né univoco. Vorrei soffermarmi velocemente su questo concetto di univocità della sfida politica. Non dimentichiamoci che non è così chiaro il profilo dell'agricoltura del futuro. La sovranità non è quasi più un riferimento ideologico oggi, ma è un tema d'attualità, questo dobbiamo esserne convinti. Con il passaggio di oggi, di questi giorni, dei prossimi mesi, togliamo la sovranità da quello che era una bandiera, la rendiamo un fatto di attualità, ma non è che ve lo devo spiegare io il perché. Perché il Covid ci ha detto delle cose, perché la filiera lunga è ormai alla canna del gas, nel senso che vive anch'essa di sussidi, di foraggiamenti, di tresche politiche, di lobby europee, chiamatevi come volete. Ma questo non toglie però che siamo in un profondo periodo di trasformazione e bisogna approfittarne in tutti i sensi. La galassia della sovranità alimentare ha il difficile compito di fare per sé la battaglia sindacale e nello stesso tempo di far avanzare il dibattito sul futuro possibile. Ecco, io la sintetizzerei così, la vera sfida. Un futuro, c'è da dire, che sta bussando alle porte sotto varie forme. Anche qui c'è un problema di riconoscimento di quali sono queste forme. Attenzione, non immobilizziamoci dentro il riconoscimento delle forme. Come diceva Gianni, invece, facciamo formazione, facciamo analisi, facciamo approfondimento, perché il nuovo non si presenta in una forma univoca. Quindi se c'è una comunità di interessi forti e soprattutto in cammino come questa, io credo che da questo punto di vista l'analisi debba in qualche fase prevalere. occorre spingere per far capire alla società che i problemi non si possono più rimandare. Ecco, forse in questo c'è un po' di ideologia. In una situazione molto elastica vanno fatte scelte oculate, vanno attivati recettori e intelligenze che nella fase precedente erano dormienti o comunque non erano il tratto più importante di questa galassia. Ecco, per esempio, che il polo dell'informazione e della comunicazione può dare anche su questo un contributo fondamentale, perché, come ho detto in altre occasioni, può svolgere un ruolo di ama scoperta, sminare terreni, sondare possibili e nuove alleanze, studiare il territorio. Lo vorrei specificare questo concetto. La radio, differentemente dalle organizzazioni sindacali o delle associazioni che sono portatrici di un'istanza, ha molte meno formalità, però nello stesso tempo può svolgere appunto un ruolo di avanguardia, nel senso che può stare a guida dei processi in senso tecnico e non in senso politico, ovviamente, e rappresentare le nuove istanze nella società, nella politica, nelle istituzioni, nel senso che è titolata a farlo dal punto di vista dell'informazione. Quindi è uno strumento prezioso che va usato in base a una precisa progettualità, però va usato a fondo e va usato ora, non c'è più un domani, su questo io vorrei parlare chiaro a tutti. Non c'è un secondo tempo, bisogna iniziare subito, abbiamo fatto quattro mesi in surprise, come dicono i francesi, non può più accadere, c'è bisogno di una presa di coscienza, di una presa di parola, nel caso della radio, che va sviluppata immediatamente. Il potere, attenzione, quello reale che manovra le risorse e piega gli altri soggetti ai suoi obiettivi, non sta certo a guardare. La vicenda del biologico, scusate, lo dico da giornalista, qui ci sono dei rappresentanti molto più preparati di me, ce lo racconta in modo chiaro, che cosa è accaduto. Il sistema della distribuzione si sta appropriando pezzo per pezzo di un'idea vincente, straordinaria, strategica, quasi, che è stata perseguita negli anni scorsi e continua ad esserlo. Però poi le adatta quest'idea, le sue esigenze, facendo terra bruciata intorno a sé. È questo il senso del potere economico. È questo che dobbiamo battere con un altro modello, un'altra impostazione. L'autonomia, e ho concluso, è quindi una condizione imprescindibile, un'autonomia che va agita nei punti di forza e sicuramente la radio è tra questi punti di forza e si mette al servizio chiaramente in questo solco. Concludo dicendo che c'è da vincere una sfida verso le giovani generazioni. Questo sì, questo è il punto debole di questa bellezza di cui parlavamo prima. ci vuole più presenza di giovani. La radio e soprattutto nella sua funzione, nel suo lavoro sui social, può svolgere un bel ruolo. Diamoci un'immagine convincente, però è chiaro che questa pubblica opinione dei giovani e chi vorrà coinvolgersi, perché ci sono anche tanti giovani presenti in agricoltura, è chiaro che lì dovremmo sfondare e avere dei risultati immediati. Grazie. Passerei a Marco la parola. Va bene, io sono un informatico, per cui lo ripeto, mi occupo di comunicazione, ma io in realtà sono un informatico, questa qua è una cosa importante. Sono circa dieci anni che osservo tutta questa galassia di cui voi siete sicuramente una rappresentanza molto qualificata. non mi sono occupato solo dell'agricoltura e di fenomeni locali, cioè anche della parte locale, ma chiaramente anche di impatti ambientali e poi anche della componente in ambito urbano. Io vivo a Milano, per cui ho seguito abbastanza bene tutta la parte di Espo, poi tutta la componente che riguarda le tecniche di full policy, che cosa vuol dire fare politiche cittadine legate al cibo, qual è l'impatto del cibo nella reingenerizzazione dei processi e altro. Detto questo, io sono circa dieci anni che in realtà sto praticamente cercando di capire questo contenuto di cui siete espressioni, infatti prima Stefano citava, coniugava questa parola di oggetto sociale, come questo contenuto centri con le modalità di fare rete che da un'altra parte gli informatici stanno costruendo, soprattutto quello che viene chiamato social network, networking, ecosistemi, piattaforme, algoritmi, ormai ha tantissimi nomi, intelligenza artificiale, tutti ci avete in tasca degli smartphone, e via dicendo. Per me l'ipotesi da cui ero partito molti anni fa è che esiste praticamente una relazione molto, molto stretta tra le caratteristiche di tutto quello che voi state rappresentando e in realtà dove sta andando la tecnologia. Se si riuscisse, questa è stata la mia scommessa nel tempo, e questa è un'altra occasione che in qualche maniera sono molto contento che mi offrite, se si riuscisse a dimostrare che in realtà esiste proprio una sovrapposizione tra le due caratteristiche, cioè tra le caratteristiche di questo mondo e che cosa la tecnologia sta implementando, io credo che avremo praticamente dei nuovi modi per affrontare le cose che stanno avvenendo. Questo vuol dire, io dico sempre una posizione di questo tipo, la mia posizione è di dare una mano, di stimolare, di cercare di far vedere delle altre cose, ma chiaramente in parallelo, assolutamente in parallelo con quello che attualmente sta succedendo, quello che voi tutti i giorni state quotidianamente facendo. Questa è più o meno l'impostazione. Data questa impostazione, io dico solo due cose velocissimamente. Storicamente è sempre avvenuto che un qualcosa di molto complesso non viene percepito direttamente dalle persone nella complessità, cioè non è possibile trasmettere la complessità l'un l'altro. Se voi ci provate a pensare bene, anche quello che vi porterete a casa delle due ore e passa di riunione che abbiamo fatto, in realtà vi porterete a casa delle sensazioni, vi porterete a casa dei pezzi di conoscenza, vi porterete a casa qualche cosa, ma non vi riuscirete a portare a casa tutto quello che è stato detto. Non riuscirete a portarvi a casa neanche il sistema relazionale che avete generato. E via dicendo. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che le tecniche che noi stiamo adottando socialmente sono sempre state mediate da strumenti. Allora, normalmente si parla di comunità di pratiche. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che una complessità viene trasmessa agli altri creando delle pratiche che permettono di abituare le persone a essere contaminate dalle varie cose che vengono fatte. Questa cosa ne parleremo, la incontrate sempre, la incontrate quando non dovete capire come fate un sistema postale. andate in posta e compilate praticamente una letteratura comandata. Almeno una volta si faceva così, adesso è ancora un po' più complesso. Il che vuol dire che la complessità viene sempre approcciata da una mediazione. Io credo che se si riesce a creare questo tipo di sensibilità nell'approcciare il problema, e per cui chi si occupa pesantemente di tutti i temi di cui voi siete portatori si abituiassero a creare o a pensare delle pratiche, probabilmente riusciremo a creare un meccanismo molto più efficace per poter passare la complessità dei temi alle persone. Era la famosa, prima è stata fatta dal pastore Sardas, mi scuso il nome, non me lo ricordo, è stata fatta la battuta, c'è la battuta, la considerazione, ma noi come facciamo? Ci sono le persone che stanno comprando l'anguria a un centesimo. Noi come facciamo a fargli capire che un'anguria al centesimo non esiste? Non esiste, non può praticamente essere un prodotto perché praticamente nega qualsiasi qualità. Se noi ci poniamo questo tema e ci poniamo il tema di come fare a fare in modo tale che le persone riescono a raggiungere questa consapevolezza, probabilmente vuol dire che che arriveremo a fare, a disegnare una pratica. Se noi disegniamo una pratica vuol dire che le persone confrontandosi con questa pratica pian pianino si spera che debbano capire per quale motivo un'anguria è bene che non costi un centesimo al chilo. Questo è più o meno il contesto generale. perché vi ho fatto questa premessa? Perché in realtà quello che sto cercando di fare con il gruppo di comunicazione e poi praticamente con tutti voi è di vedere se questi sette giorni riusciamo praticamente ad abituarsi. Noi oggi abbiamo fatto una riunione. Ok, quella riunione com'è che ci viene restituita? Che strumenti abbiamo perché noi la possiamo rivedere? ma soprattutto come questa riunione viene trasmessa agli altri? E per cui che tipo di valenza può avere rispetto agli altri? Ci sono dei meccanismi assolutamente fondamentali che vengono dalle esperienze giornalistiche di Stefano e Fabio. E quello è una forma, è un linguaggio, è una forma espressiva. Quando invece noi utilizziamo i social, costruiamo i siti, costruiamo delle altre, facciamo, registriamo le cose e poi dobbiamo fruirle, lì in realtà dobbiamo iniziare a ragionare che senso ha tutta questa operazione. Il discorso è piuttosto ampio, credo che non bisogna parlarne tantissimo, ma bisogna vedere e cercare di vederlo, per cui io spero di essere il più efficace possibile in questi giorni nella creazione, nel ragionamento sugli strumenti e che questi strumenti possano accompagnare tutti i giorni per poi arrivare che l'ultimo giorno possiamo parlarne insieme e vedere come possiamo andare avanti di più tanti. spero di essere stato esaltito. Grazie. Ok, allora Tano, concludi tu. Sì, insomma, concludi. Nel senso... Il seminario lo stiamo appena prendo. Sì, sì. Però quest'ultima parte che dice in sostanza praticare per cambiare modello è quello che io e che noi da più tempo stiamo appunto provando a fare. Io credo che ci sia stata in questi anni una grande capacità da parte nostra di inventarci di inventarci dei contenitori di inventarci come dire di inventarci degli organismi che potessero pezzo per pezzo contenere le varie istanze però poi di praticarle di fare in modo che questo possa diventare il modello e questo insomma è un po' complicato. C'è una parte per esempio la comunicazione che è un pezzo che ci è mancato in questi anni e che invece adesso vedo come una cosa di altissima qualità riuscire a mettere assieme tanta gente che condividono dei presupposti importanti che sono tutto sommati nostri quelli che ci servono appunto per cambiare la società per cambiare ora in questi vari contenitori domani per esempio iniziamo con il foro dei contadini e degli agricoltori subito dopo c'è il soccorso contadino e poi varie altre l'ho detto prima quando mi sono presentato una delle questioni che è mancata agli agricoltori era il riconoscersi in un'organizzazione che la tutelasse veramente noi abbiamo provato per anni a mettere su un'organizzazione agricola non ci siamo riusciti finalmente adesso ci stiamo riuscendo ci stiamo riuscendo perché diventiamo parte di liberi agricoltori lo diventiamo con la nostra autonomia con il nostro pezzo che è quello del foro dei contadini e degli agricoltori che dovrà servire da un lato da stimolo per liberi agricoltori ma da un lato dovrà servire a noi per far sì che soggetti come Agostino Cascio che è intervenuto prima altri pezzi di vertenze che ci sono in campo in Italia si possano riconoscere e possano dar forza ad una vera organizzazione agricola ho fatto questi due esempi della comunicazione e del foro contadino per dire che da questo seminario può venire fuori quello che ci serve per poter praticare per fare quello che diceva Marco poco fa e con la pratica quindi riuscire a coinvolgere altri soggetti ad allargarci ci vorrà tempo sicuramente ma probabilmente intanto ci aiuterà a resistere meglio e a rafforzarci e ad iniziare anche a portare qualche risultato Katia la chiudo qua no no si è partita una strana cosa va bene va bene allora la chiudiamo qua il campo è segnato il campo è segnato è chiaro il tema del lavoro di questa settimana si aggiungeranno tante altre voci nei prossimi giorni è chiaro il campo siamo stati e siamo sufficientemente matti da pensare che quello di cui stiamo parlando sia possibile io non lo so se lo sarà devo dirvi la verità non lo so so che non abbiamo altre strade che provarci ci stiamo provando e stiamo provando a tenere insieme tante storie diverse intorno all'idea cosa che la prospettiva il cambiamento un progetto nuovo ci può arricchire e ci può permettere di tenere in campo quello che finora ci è stato negato cioè uno spazio comune allora uno scazio comune è un progetto comune non esitano adesso faceva riferimento io non voglio fare un ragionamento dico solo una cosa Tano diceva adesso la nostra difficoltà ci stiamo provando da anni ci stiamo provando da anni la realtà però è che gli agricoltori come i braccianti come i consumatori da soli non ce la fanno il nostro nemico è globale e pervade come una neba le menti i corpi la società la plasma rispetto ai suoi bisogni e ai suoi obiettivi non abbiamo alternativi non si salva un pezzo di questa società non si salva un pezzo abbiamo voluto intitolare questo seminario in maniera evocativa rispetto a questo punto dal lavoro della terra al lavoro per un'altra società guardate è una parola d'ordine del movimento senza terra del Brasile che è un movimento di lotta è un movimento che paga ogni anno 20 morti ammazzati perché occupano le terre ed è un movimento che produce senso che produce contenuti che ha un'idea di società altra noi stiamo ragionando di mobilitazione sociale di pratiche di sindacato perché pensiamo che non perché siamo amanti delle cose complicate non perché abbiamo il vezzo dei bizantinismi ma perché la società di fronte a noi richiede una risposta globale siamo dentro un problema globale o la risposta è globale o non c'è sta cazzo di risposta quindi non abbiamo alternative può non essere può essere che non ci riusciamo so io so dopo 20 anni che ci stiamo provando che o ci misuriamo con la complessità offrendo una risposta alla complessità nella nostra capacità guardate Marco è un informatico e gli informatici sanno una cosa se provo a dirla così non voglio rubargli il mestiere forse dico una stronzata ma insomma io ho imparato da quel po' di praticone di utilizzare gli strumenti una cosa che alla fine l'utente finale fa click e fa click perché dietro a quell'operazione semplice banale quella stronzata puoi fare click qui o click lì c'è un lavoro pazzesco che ha saputo ridurre la complessità di mille variabili mille problemi mille questioni in un click nella possibilità tua di scegliere fra un click o un altro click noi siamo in questa condizione siamo dobbiamo fare i conti con la complessità e poi scegliere e poi provare a produrre un senso dentro la società per cui dobbiamo dire a sta cazzo di società oh questi sono i due click che hai di fronte a te fottiti oppure avanti ma i due click li dobbiamo confezionare alla semplicità alla risposta concreta arriviamo perché abbiamo saputo mettere le nostre intelligenze le nostre esperienze le nostre sconfitte i nostri sogni insieme in un confronto che ci permette di fare sintesi di questioni complicate perché è il capitalismo che non è una cosa semplice è il capitalismo allora questo è questa settimana non risolveremo i problemi del mondo ma se arriviamo a sabato incominciando a trovare il bandolo di un percorso che ci mette al lavoro intorno a degli obiettivi condivisi e quindi se voi dal più breve tempo possibile diciamo io ho un obiettivo ve lo dico e chiudo qua che il giorno in cui io voglio sfanculare tutto e passare da io prima ero restauratore adesso mi occupo di agricoltura domani vorrò andare su Marte a pescare le bottiglie blu che fanno in omaggio a Blueberry su Marte e diciamo questo percorso non ha bisogno più di essere come dire di avere un facilitatore è un percorso che vivrà perché vivrà comunque proviamo a costruire questa strada e io dico primo appuntamento domani mattina tutta la giornata di domani sulla questione degli agricoltori Maurizio Tano Tano chiama quelli che oggi non sono venuti chiama ha mandato in chat Mimmo Vescanti che non riusciva a collegarsi quell'altro così quest'altro cos'ha no poi dopodiché quando parliamo di prezzo del grano tutti quanti pronti perché che cazzo facciamo quando proviamo a costruire le condizioni per cui il prezzo del grano lo possiamo affrontare c'è sempre un problema tecnico per cui ma io così ma io cosa Tano ti metti al lavoro questa sera li chiami tutti perché domani mattina domani è la giornata dedicata alle imprese agricole e agli agricoltori e bisogna esserci ok ok al lavoro ciao ciao a tutti buona serata domani ciao comunque in questo momento fino a dieci minuti fa prima che parlassi io evidentemente c'erano 30 persone collegate e ci sono state in linea fino a questo momento 42 persone fra una cosa e un'altra e quindi iniziamo bene mancavano i due terzi di quelli che verranno nei prossimi giorni e quindi bene così al lavoro ok ciao ciao a tutti ciao 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 a domani grazie ciao ciao ciao